Questi sono i giardini. Sì, questa è la villa Fabri. Purtroppo adesso naturalmente l'ufficio turistico dentro è chiuso che lo riapriranno successivamente. Appunto è l'importante dimora fatta erigere da Girolamo Fabri tra la fine del 1500 e agli inizi del secolo successivo. È collegata nella parte più alta. Ma questa è di proprietà o del comune? No, questa adesso è comunale e all'interno vengono fatti tipo delle presentazioni dei libri oppure delle premiazioni. Perfetto. E adesso le faccio vedere il giardino. È molto carino questo qua. Molto bello. Molto bello. Allora qui merita.